Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Immortals Fenyx Rising, che è l'ultima fatica di Ubisoft in un gioco single player che secondo me porta alla rivalza del genere e veramente ha una ventata di aria fresca in un panorama videoludico che secondo me ne aveva anche abbastanza e decisamente bisogno. Si parla di l'ultimo gioco uscito tramite Ubisoft acquistabile direttamente sul loro sito per varie piattaforme e direttamente nella versione PC che vi mostro oggi su il client loro di Uplay. Immortals Fenyx Rising è la storia del grande titano Tifone che risvegliatosi dalle sue catene vuole conquistare il mondo e distruggere gli dei e sicché a quel punto il padre di tutti gli dei che è Zeus va a chiedere, nell'antica mitologia ellenica, va a chiedere aiuto a Prometeo. Prometeo che vi ricordate secondo la mitologia è stato incatenato in cima alla montagna al freddo, viene regolarmente torturato tutti i giorni da un'aquila gigante se non erro che gli mangia l'intestino e lui è mortale come tutti gli dei non può morire quindi è condannato a soffrire in eterno per aver donato il fuoco eterno quindi un dono prettamente degli dei ai mortali e Zeus e tutti gli dei sapete che non volevano assolutamente che una cosa del genere accadesse quindi per questo Prometeo è stato punito. È una storia abbastanza semplice, viene messo tutto quanto in mano le sorti degli dei nella battaglia con Tifone vengono messe nelle mani appunto di questi mortali di cui Prometeo si è fatto carico sulle spalle e gli ha donato il fuoco. E voi siete questo Fenyx che di ritorno da una battaglia che sembra essere quasi la battaglia di Salamina o qualcosa del genere, tornate indietro via mare, la vostra nave viene distrutta, vi ritrovate su una spiaggia il più classico degli inizi e da lì parte la vostra storia. Vi trovate sull'isola degli dei ellenici dell'antica Grecia e mano a mano andrete ad acquistare coscienza di quello che dovete fare e poteri in una missione di recupero che partirà così inizialmente di dover recuperare tutti i membri del vostro equipaggio per andare via per poi appunto entrare in contatto con Hermes e altre divinità appunto del Pantheon greco e dover aiutare gli dei a risolvere questo problema con Tifone perché è un problema che non riguarda solo la caduta degli dei quindi del mondo sacro dell'Olimpo quanto della stessa terra. Ed è un gioco molto scansonatorio che non si prende mai sul serio molto burlone soprattutto nei panni di Hermes, è molto bellino l'idea che quello che voi fate è narrato in tempo reale quindi è una storia passata, è narrato in tempo reale da Prometeo con dell'aggiunta di Zeus che ci mette lo zampino nel mezzo e vi fa apparire vostri o vi modifica un po' quello che succede perché Zeus non crede assolutamente nei mortali mentre invece Prometeo è il lume favorito insomma per la protezione e l'aiuto a tutti quanti i servi dell'Olimpo mettiamola così, ai mortali sulla terra. Ed è bello perché allora a livello di basi come gioco non voglio fare poi un video troppo lungo, ve lo voglio presentare, tanto poi recensioni ce n'è a bizzeffe e lo potete seguire anche su vari canali Twitch è molto bello perché a livello di base sembra veramente una via di mezzo fra un Assassin's Creed ritroviamo le meccaniche di scalata, le meccaniche del salto della fede c'è anche qui le meccaniche della statua monta fino in cima per esplorare tutto quanto il territorio circostante sbloccare queste secondarie e quant'altro. In mappe open world in 5 macro mappe che sono belle grandi però non immense perché non ce n'è bisogno. Più che altro sono compatte, sono di media dimensione ma ricche, piene zeppe di contenuti e segreti da scoprire tipo scrigni, dungeon sommersi, enigmi che non sono mai troppo difficili ma comunque divertenti e il gioco di base ve l'ho detto è una via di mezzo fra un Assassin's Creed e anche uno Zelda infatti inizialmente era stato un po' additato perché dicevano sembra quasi la copia spudorata di Zelda cosa che non è assolutamente vera, non c'entra proprio niente però sì è vero magari un po' dalla grafica, anche questo cell shading molto fumettoso e tutto molto simpatico un po' lo ricorda ma è soltanto una cosa di facciata poi alla fin fine il gioco non c'entra niente ecco è molto più simile ad un Assassin's Creed ad esempio che non è uno Zelda ed è molto carino e divertente, il sistema di combattimento è veloce, è immediato non ci sono capolavori, non è un Souls-like, sono cose già viste 100.000 volte ad esempio in Darksiders, il primo che mi è venuto a mente però comunque è un sistema di combattimento che funziona non c'è una vera e propria immensa modalità di potenziamento dell'equipaggiamento e di loot però c'è tanta nuova robina, sblocca la nuova armatura, sblocca la nuova spada le nuove skin, anche qui è possibile acquistarle con soldi reali come in tutti i giochi Ubisoft dallo shop online dentro il gioco o direttamente giocando, guadagnando punti e per poi appunto prendere skin e cose del genere sia per Fenix che per la cavalcatura è molto bello anche il fatto che c'è del Season Pass, quindi possibilità di espansioni eventi non è un gioco online, però eventi che capiteranno regolarmente lo sapete questo è un concetto che ha fatto la Ubisoft da un po' di tempo, da un paio d'anni addirittura da Assassin's Creed Origins, quindi anche da 2 o 3 anni nel discorso che i loro giochi sono single player ma comunque una componente online ce l'hanno eventi dinamici oppure anche semplicemente il poter scattare fotografie e farsene votare o votare quelle di altri giocatori il gioco ha una longevità tutto sommato buona, anzi per quello che mi riguarda anche alta per il tipo di gioco che si va a trattare appunto in open world si va sulle 25-30 ore che non sono poche poi ovviamente se uno si mette a esplorare e fare tutto il resto magari può anche tranquillamente arrivare a una cinquantina che per un gioco del genere sono tante, contiamo che il gioco principale di The Witcher 3 si apprestava sulla cinquantina di ore io sono arrivato a farne 95-96 una cosa del genere ma perché l'ho platinato, ho sbloccato tutte le armature e qui una cosa del genere ovvio i tempi non sono quelli però comunque diciamo che ci si avvicinano diciamo il filone è sempre quello lì ed è un gioco veramente divertente mi ci sto divertendo da morire ma la cosa più importante è che Ubisoft è riuscita a centrare l'obiettivo che si era prefissata ovvero dimostrare che i giochi single player hanno ancora vita a parte che è uscito da poco anche il loro Assassin's Creed Valhalla però non è vero che per sfornare un prodotto che deve vendere bisogna fare per forza un gioco con la componente online che deve essere aggiornato costantemente deve avere 10 miliardi di DLC mi viene in mente Dead by Daylight che costa 9 euro poi se vai a comprare tutti i DLC ti va a costare più di 100 cioè fra pochino faccio prima comprarmi una console usata ma nemmeno tanto usata usata nuova che comprarmi tutte le espansioni e quello che è uscito qui di qua no ti fanno vedere che è comunque un gioco supportato anche a livello di conto poi ci sono i DLC e tutto ma più che altro il classico Season Pass che poi finisce lì viene arricchito di contenuti, di eventi e cose del genere ricordo che dopo l'uscita Assassin's Creed Origin e anche Odyssey sono stati supportati con contenuti ed eventi gratuiti per un anno di fila per un anno l'evento degli Dei, l'evento della Duat e tutto il resto quindi comunque è tanta roba cioè ti sembra veramente di giocare a un World of Warcraft dove regolarmente ti rilasciano contenuto aggiuntivo X, tot, comunque dungeon e con boss, world event e cose del genere quindi è una cosa anche piacevole ed è un gioco, ve l'ho detto, che non si prende mai troppo seriamente però è bello perché poi c'è anche, a parte la storia che è veramente molto interessante perché la vera mitologia greca, vera, cioè da studiare sui libri di storia ovviamente vista il chiave umoristica però quella non ci sono in esattezze cavolate e tutto ed è bello che il vostro personaggio parte come mozzo di questa nave schiantata su questa spiaggia che non sa fare niente piano piano magari prende le ali di Icaro magari prende la velocità di Hermes magari prende il fulmine di Zeus e tanti altri poteri e anche se non erro prende l'ascia a due mani per il corpo potente sfondare muri per entrare nelle stanze e soprattutto per risolvere gli enigmi di Atalanta quindi è veramente una figata disumana se non erro anche l'arco della Dea Artemide no scusate, l'arco di Odisseo ed è veramente molto divertente ecco, dimostra che per divertirsi e fare un bel gioco non c'è per forza bisogno del contenuto online io ringrazio veramente, ho voluto farvi questa veloce presentazione io ringrazio la Ubisoft per avermi offerto questa chiave per la recensione tra l'altro contattati come sempre tempestivamente me l'hanno mandata grazie veramente di cuore e ragazzi se cercate un gioco con cui svagarvi per una 25-30 ore ma che possa diventare anche il doppio se esplorate tutto fidatevi, ci sta anche una seconda run è veramente ragazzi divertente finalmente, finalmente, è detto da me strano finalmente Ubisoft ha centrato l'obiettivo non do più voti ma se dovesse farlo sarebbe sicuramente molto vicino al tetto veramente ragazzi una pietra miliare un gioco che secondo me rimarrà impresso negli anni è veramente, veramente un gioiellino ce n'era bisogno ciao ragazzi, alla prossima ciao 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 ciao